amici di youtube ciao a tutti bentornati sul canale benvenuti ad un nuovo video situazione sempre più delirante mister bruni si è ripreso io non tanto devo dire oggi è il 17 dicembre non so come prendere la notizia del mattino mi sono alzata dopo una notte abbastanza travagliata e ho scoperto che oggi 17 dicembre ho esattamente 1717 iscritti cioè 17 17 a questo punto vi direi di lasciarmi qualche quadrifoglio porta fortuna perché non so che piega prenderà la giornata ma devo dire è veramente un periodo di merda bene detto questo passiamo a mister bruni come vi dicevo mister bruni sta meglio vi ringrazio tantissimo per i pensieri che avete inviato mister bruni devo dire che la vostra energia positiva è arrivata anche qui per fortuna si è ripreso infatti in questo momento sta scavando come al solito nella cassetta in ogni caso mister bruni vi ringrazia e non so se avete visto nei post della community se non l'avete visto ripubblico anche qui è arrivata la carta di mister bruni v gold sto ancora preparando la carta di mister bruni v max ma per il momento abbiamo la carta di mister bruni v gold vi farò sapere se riesco a produrre una carta custom di mister bruni da distribuire devo vedere un attimo per quanto riguarda la tipologia di stampa magari nel frattempo vi proporrò una versione online bene direi che possiamo passare al premio del giorno sperando che non si sentano troppi ravanamenti di mister bruni perché la cassetta è qui sotto la carta di oggi è anzi per la precisione oggi ho pensato di proporre un pacchetto anti sfiga quindi oggi non ci sarà una carta premio ma ci saranno ben cinque carte e le carte di oggi sono cinque trainer gallery di origine perduta in particolare abbiamo parasect roseraid chandelure spiritomb e snorlax trainer gallery di origine perduta spero che queste carte vi possano interessare se non le avete potete come sempre partecipare lasciando un commento sotto al video potete lasciare anche un like che fa sempre piacere se avete già le carte non vi interessano lasciate pure sempre un commento perché è apprezzato vi fa piacere ogni giorno leggere le vostre frasi siete veramente carini e soprattutto grandi amanti degli animali mi fa piacere di essere seguito da tante persone che amano anche la natura e gli animali bene direi che per oggi è tutto cioè per il momento è tutto perché vedo se riesco in giornata ad aprire il box di vista di universe ve lo avevo promesso spero di aprirlo oggi direi che prima di salutarci vi dico l'emoticon del giorno emoticon del giorno a parte porta fortune talismani vari un fiore o un emoticon che rappresenti la natura un abbraccione a tutti una buonissima giornata e spero di rivedervi più tardi con l'unboxing di vista di universe per l'unboxing di tutto